non è arrivata ancora hai ordinata lei? peschereccio di paolo e il tarantino spero di spezzarmi i fegri apri 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 non hai messo i fegri? mi serve i fili dopo sono assai per mettere le mani dentro i fili? sono assai per mettere le mani dentro poi lo spai non si toglie non si toglie quando ti metti due cangetti per luce perchè la plastica la plastica è fusa la plastica è fusa e poi la carica è fusa e poi la carica è fusa li porti qua con i cosi aperti non vuoi fare niente? ci mancherò una roba c'è una roba quello del brand beh ma contate io ho il Bruzeros come si chi è? ma ha detto che un amico mio ti conosce ma il modellino è un secco ma cos'è nella realtà? nella realtà così se tu non lo dicevi il rango del leder ma lo rimane da parte eh ma non è quindi vado a spariscini i corsi gli hanno un compagno con i carri di macchini ma presto ma ti faccio sentire la tronda a me il numero a voi è un uomo lo viene l'ho provato già nel pilone la linea di galene sta già preparata devo soltanto tirar la linea con la scotch questa va su youtube poi ti serviranno i pesi allora hai fatto i pesi mi suoni la tromba suona sulla tromba sulla tromba suona la tromba suona la tromba al